musica bene ragazzi vi ricordate l'altra volta che ho spiegato le differenze cromatiche bianco, nero, blu, rosso bene, questo è il secondo esempio qui abbiamo il pompo splendide sugli SS e queste vi posso dire che sono effettivamente rosse torniamo sempre a fare tutti i tempi e vi spiego anche perchè se non sono neri come si vedono alcuni SS in Italia ci sono ben poche soprattutto nell'Italia direi che ce ne sono due una rossa con gli tanni neri un'altra rossa con gli tanni celesti ma vabbè, quello è un altro discorso torniamo sempre a noi questa c'è il sede di tessuto con le righe rosse rossa rossa non blu o celeste perchè Molin dà lezioni a tutti qui sono qui Grazie per la visione!